Cari amici e studenti della Scuola dell'Abilità, oggi sono al Parlamento Europeo per portare la testimonianza del nostro impegno, del nostro lavoro per crescere come persone e ho una comunicazione da farvi. L'Europa unita non è solo un'idea politica, non è solo un mercato comune, ma è uno sforzo di collaborare e di emergere insieme, per cui studiate, diventate grandi persone e trovate la strada per essere uniti. Grazie.